Al via la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri, siamo dalla tua parte, denuncia, dati allarmanti. In occasione del 25 novembre la Polizia di Stato propone nuovamente la campagna per contrastare il fenomeno e prevenire i femminicidi. Bomba nella notte esplode un'auto, danneggiate quelle vicine. Zinno, fiducia nelle forze dell'ordine, pronti a chiedere maggiori controlli in città. Le violente mareggiate di questi giorni hanno letteralmente distrutto quel poco che restava, rendendo il sito inaccessibile. Sopraluogo questa mattina per il ripristino dell'area. Il tavolo di lavoro con cittadini, associazioni, operatori sanitari ed istituzioni è in programma venerdì 2 dicembre a Castellammare. Una raccolta firme per l'installazione di Autovelox a Torre del Greco. L'iniziativa è promossa dal Comitato Aria Nuova, formato da cittadini e commercianti.